Cari amici di Letture Metropolitane, oggi vi racconto un spettacolo teatrale che mi è piaciuto molto, non si tratta di una primizia, nel senso che è la seconda edizione di questo spettacolo al Teatro India e vi sto parlando della versione teatrale del Cavaliere Inesistente realizzata per la regia di Tommaso Capodanno che in questi giorni dal 22 novembre fino al primo dicembre sarà appunto al Teatro India di Roma e il Cavaliere Inesistente è il romanzo di Italo Calvino che molti di voi sicuramente conosceranno che è il romanzo del 59 se non erro che conclude la cosiddetta trilogia araldica iniziata col Visconte di Mezzato e poi proseguita col Barone Rampante e innanzitutto diciamo che non è facile portare in scena un romanzo di Italo Calvino ma gli escono, gli esce questa regia, questa scelta registrica, riesce anche in primo luogo l'adattamento riuscito di Matilde Taccardi, riesce la regia semplice ma molto intelligente nella sua semplicità, nelle sue accortezze, la regia appunto di Tommaso Capodanno ma riesce soprattutto a rendere giustizia un testo così importante, pieno anche di significati, anche ambiguo nella sua lettura poetica riescono a dargli giustizia le protagoniste, le attrici, veramente molto brave, molto diverse per temperamento, per declinazione del proprio talento ma complementari sto parlando di Francesca Astrei, Maria Chiara Bisceglia, Evelina Rosselli e Giulia Sucapane e sia da un punto di vista mnemonico, perché ovviamente per quanto adattato si tratta comunque del testo di un romanzo sia dal punto di vista coreografico, lo sforzo è notevole perché queste attrici sono in scena per più di un'ora e mezza ma devo dire che sia il ritmo che loro riescono a mantenere non soltanto nell'esposizione teatrale ma anche appunto in questa abilità nei movimenti coreografici in scena ma anche diciamo la capacità di restituire, ora dico una cosa se volete quasi scontata di restituire quella che è diventata un po' la parola chiave della poetica calviniana ovvero la leggerezza uscendo dai panni del critico e facendo proprio una testimonianza da spettatore è stato bello vedere come nello spettacolo odierno c'erano tanti bambini e non si sono annoiati, non si sono annoiati comunque un'ora e quaranta di Italo Calvino a teatro non si sono annoiati, hanno riso moltissimo e hanno riso nei momenti giusti una qualità che io riconosco spiccata a queste attrici è quella di appunto restituire la leggerezza calviniana ma parlando di un testo che comunque affronta una tematica come la guerra, come le violenze come la condizione femminile di clausura o di comunque subalterno soggetto a rapimenti, a violenze eccetera di sapere restituire questa leggerezza con dei tempi comici molto sapienti tanto è vero che spesso la risata veniva strappata ponendo con garbo ma al momento giusto delle battute molto innocenti, delle battute molto sottili, dei giochi di parole o delle allusioni ironiche che magari nella lettura avrebbero soltanto ispirato un sorriso e invece il botte risposta frequente tra le attrici creava un effetto comico assolutamente però non sguaiato perché in qualche modo si è riusciti anche a restituire la profondità del testo ora il testo di Calvino io ho letto ovviamente delle recensioni anche passate ho letto le interpretazioni classiche secondo me forse mi discosto un po' da quella che era la lettura immediatamente marxiana del cavaliere inesistente come l'uomo borghese, robotizzato, condizionato dalla società eccetera eccetera secondo me visto nel 2024 e consapevoli noi di aspettatori del 2024 di tutta la carriera di Italo Calvino, del percorso culturale di Italo Calvino delle polemiche ad esempio con Pasolini anche su Rolo stesso dell'intellettuale, della letteratura militante o meno devo dire che per contrasto se volete per eccesso di speculazione cerebrale per contrasto alla fine mi sono molto emozionato nel senso che il finale è molto poetico necessariamente fiabesco e quindi chiaramente rivolto utopisticamente al futuro visto la condizione sociale e politica in Italia e nel mondo al momento per contrasto mi ha dato come dire un'emozione se volete negativa ma comunque in qualche modo commovente è interessante notare come del Cavaliere Inesistente esista una versione animata di un senatore importante come Pino Zack del 1970 che ebbe anche un grande successo di critica e addirittura è un pallino di Sergio Leone Sergio Leone un po' come Kubrick con Napoleone aveva questo sogno questa ossessione di realizzare il Cavaliere Inesistente purtroppo non ci è riuscito e forse scusate c'è questa legge non scritta per cui in qualsiasi mio contributo scritto orale io in qualche modo devo citare Carmelo Bene se no non può essere pubblicato e secondo me Carmelo Bene in qualche modo cita il Cavaliere Inesistente nel finale di un amleto di meno comunque della sua versione dell'amleto in cui Fortebraccio arriva come una sorta di così incarnazione delle magnifiche sorti e progressive c'era una versione di Federico Diezzi con Sandro Lombardi dell'amleto in cui Fortebraccio arrivava come C'è che vara e appunto secondo me Carmelo Bene in anticipo dal punto di vista ideologico diciamo non voglio dire antitetico perché non voglio regalare Carmelo Bene all'estrema destra ma diciamo sicuramente non marxista interpretava invece questo ruolo di eroe di Cavaliere positivo che scioglie l'azione appunto come come la vittoria del nulla e quindi in un certo senso di un Cavaliere Inesistente però la mia interpretazione almeno vedendo lo spettacolo non è tanto del Cavaliere Inesistente come stupido soldatino ma come incarnazione impossibile di un ideale di un ideale che sembra ovviamente goffo e anacronistico donchisciottesco ma che comunque in sé porta nella sua armatura il vessillo di un ideale di onore che poi viene costantemente parodiato nel romanzo e costantemente viene mostrato il rovescio di quello che è l'onore cavalleresco eccetera eccetera in questo senso devo dire che anche le necessarie libertà comiche o meno che sono state prese nell'adattamento sono comunque coerenti sono comunque rispettose sono comunque appunto nel flusso di questa leggerezza calviniana faccio un'unica un'ultima considerazione anche l'interpolazione visto che lo spettacolo è ritmato in maniera molto convincente da canti popolari francesi che ritmano appunto la vita quotidiana delle truppe di Carlo Magno a un certo punto non penso possa essere considerata quello che con un anglismo un po' pigro si chiama uno spoiler a un certo punto viene interpolata Bella Ciao ecco questa è un'operazione che in altri momenti avrei considerato retorica in maniera urticante ma visto sia l'autore sia il momento della narrazione sia anche il momento storico in cui siamo secondo me è un'operazione sensata anche perché devo dire anche da un punto di vista canoro oltre che recitativo le attrici hanno fatto veramente un lavoro hanno offerto scusate una performance diciamo così veramente convincente ripeto i nomi Francesca Strei Maria Chiara Bisceglia Evelina Rosselli Giulia Sucapane adattamento di Matilde Daccardi regia di Tommaso Capodanno al teatro India fino al primo dicembre del 2024 Il Cavaliere inesistente tratto appunto dal romanzo di Italo Calvino spettacolo che vi consiglio grazie a tutti a tutti dicembre alla fine è di lo